Ok ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questa nuova serie di Minecraft Per problemi tecnici, diciamo, non mi aveva registrato la volta scorsa E allora devo riregistrare adesso Buono, buono Prendiamo legno Ok, ho fatto questa piccola casa Vedete la mod che è un po' diversa La mod, madonna La texture pack che è un po' diversa Si chiama Realism E' qualcosa, aspettate che ci guardo Come si chiama? Si chiama LB Photo Realism per 64 Perché per 64? Perché ci sono tre diverse modalità, diciamo, di questa texture pack E questa è quella minore, diciamo Cioè, con grafica minore Non credo che quelle altre mi avrebbero retto Quindi ho messo questa Quindi ho messo questa Ok Ok, facciamo Belli pastoncini Facciamo un bel piccone Oh, guardate ma qui Bellino Poi ci farei Mi farei una bella Cacchetta Ma fighetta Fighetta davvero E mi farei anche Una spada Poi mi farei anche Una pala Una pala E basta Non credo che Si riesca No Non credo che si riesca Mi sa che laggerà Eh, però No No, non lancano Perfetto Ma non si riesce a vedere Anche bello lontano Ok, allora Io scaverai un attimo Due secondi No Che Guardate come la terra E la pietra Una mod Fatta Veramente Veramente Bene È veramente Molto Realistica Non so se ci vedete Però Veramente è una roba Cioè nel senso Qua sotto La caverna Ma è 8 12 No 8 11 14 15 Ok 15 No 16 17 17 Ora capirete Perché questo calcolo Ok Allora Perfetto Allora Direi di fare Una bella fornace Cavolo Guardate come è la fornace Ok Nella fornace Dopo mi serve Del legno Ok Intanto Potrei fare Con il minimo Sì dai Allora Piccone Accetta Sì l'ho presa Precita No L'ho chiamata Dubbia Spada E Palo What Voglio farmi notare Come la pala Cambia anche la forma Ok Per ora Usiamo Ancora Quelle di legno Perfetto Allora Cosa mi serve Un po' di legno Me ne serve Quanto barbom facciamo Ne farei Sedici dai Per ora Sedici Così Sì Wow Il fuo Madonna Che fantastico Cos'è da Madonna Anche il carbone Come è fatto bene Me ne sto innamorando Gli sta molto Ok Uno di barbone Due di barbone Due Ne basti Quattro Quindi Prendendo Esattamente Quattro Di vestiti Facciamo Un po' di Tarciole Una qui Una qui Una qui Una qui Poi Venere Mettere Un po' qui Poi Qui Eno Rindetute Una qui Eno qui Perfetto Qui c'è altro Carbone Madonna Qui c'è altro Carbone Ci faccio Altre torce Ok Allora Cosa possiamo Ok Ok Allora Cosa possiamo Fare Non lo so Aspettate Ho messo Pacifica Ragazzi Perfetto Ah ecco Cosa dovevo fare Prima di cosa Prendere Un bel po' di legno Non si vede una cepli Quindi vengo qui Vabbè anche a me Non è che si vede tanto Metto un po' di torciole Qui nel bosco No Bella la luna Cioè la luna sembra tonta Sembra precisamente tonta Ok ci cambia Ci cambia Poi se riesco Andando avanti Ci voglio aggiungere Sempre più mod Più sim Dalla prossima volta Forse userò La mia Tetson Pack Ve lo dico A livello di questo Non è niente Perché la mia È cartonizzata Poi mi dite Nei commenti Quale preferite Quale preferite Che La metto Me ne serve tantissimo Di legno ragazzi Minimo Di tavole di legno Me ne servono Minimo 64 Ma non credo Mi bastino 64 Dai arrivo a 30 E basta Ah poi Fate un salto Nel canale AsherodimutoHD Il canale mio Di loyal Di manga Ancora non ci abbiamo Messo video Per problemi Che non sappiamo Ancora Che video Che genere Di video fare Però Ce li metteremo Tranquilli Una mela Allora Ok ragazzi Probabilmente No vabbè Torni qua Stavo dicendo Che non ci vedrete Per un secondo Ok Finisco quest'albero E finisco quest'albero E poi basta Questo sì che Viaggia Ok Possiamo Ander Ehm C'erano C'erano Un 264 Tanto mi faccio Una cesta Per ora Per ora Per ora la metto Qui Ma tanto adesso Sto facendo La stanza Delle cesta Cioè voglio andare a fare La stanza Delle cesta Quindi No ma questi qua Sono quelli chiari Ah no Sono quelli Eh appunto Sono quelli chiari Vabbè Sto stanza La faccio Con quelli Delle maieri Ok Terra Visto che In tutte le stanza Che facevo Non mi bastava mai Stavolta La faccio Su due piani Oh Beh E faccio Bassi Dei piani Senti Dei piani Senti Cioè Bassi Qua Che è il piano Uno Due Tre E quattro Deve essere Testa Altezza Qui Ma dicevo Che cavolo Winner Detto Che firmano Lluis Aläch Lluis Dove Inzito Mi Per salire farei una scaletta di... Ok, così. Ok, deve arrivare alta 3. La stanza arriva qui. Magari se facessi anche giorno, sarei più contento. Oh my god. Ragazzi, visto che io, diciamo così, avendo pochi iscritti e poca organizzazione, penso che farò d'ora in poi soltanto una o al massimo due serie. Sicuramente una è Minecraft e probabilmente è questa. O faccio questa, o ne faccio una. La volevo fare con Luca. Magari anche con Loyal, un po' con tutti, magari. Ma proprio una di quelle serie che, andando avanti, ti appassioni. Cioè, nel senso, facendo grandi città. Io probabilmente terrò sta Texark. Madonna, è troppo bella. Uh, non me la nomi caccomorda. Alla. C'è anche del carbone, eh. Andiamoci, direi. Se la serie la faccio con... Quella lì cos'è questa? Pietra? Pietre, scusi. La pietra. No, vabbè, prendiamolo, che è la pietra. Non fa mai male. Iii! Porca trota. Si che fa male a caderci su. Questa è Ghiaia, direi. Ghiaia, si. Sembra arancione il piccolo. Uh, 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 uh. Vabbè, cade, è vero. Uh, cosa ho visto? Cosa? Gira back. Visto. Oro. Red. Andiamo. in giù. Però non so se è meglio scavarsi sotto i piedi. Eh, però. Cosa ho trovato? Cosa ho trovato? Ci portiamo? Oh. Anche lì è red. Credo sia red. dal colore direi che era in questo dopo per risalire mi prendo un po' di pietra perché che materiale allora prendiamo quello di pietra spero sia ferro si è ferro ferro tanto ferro l'oro e la resto non posso prenderlo senza ferro vabbè quello là è giù è altro ferro questa è ghiaia sempre ghiaia la ghiaia e la ghiaia si scava con co-test oh hcch tanto buon ferro questo qui non me lo ricordo se si può lontare direi di no che magari vi faccio la mappa perché io mi perdo spesso almeno se mi capita di buon ferro tornare a casa guardate guardate un'altra figata di stamonte l'acqua oh eccoci qui che abbiamo preso anche 16 di ferro questo io lo chiamerei anche che è un po' culo e là su c'è no che culo ragazzi mi ha trovato pensavo di sfuggirmi il barbone dei miei stivali bello il barbone nooo guardate quanto vengo io a trovare almeno 16 almeno mi faccio mi brucio il ferro altro ferro tanto ferro nooo si arricchia al primo episodio ma probabilmente nella serie farò questa con Luca tipo prendo il mondo la cartella del mondo e la trasferisco in quella del server scusate se si vedrà male però sto registrando con fraps oh merta sto registrando con fraps e non so se si vede bene o male bellina però anche la pietra così mi piace più questo tipo di pietra che questo qua c'erano questi persone si senza torciole infatti quanto barbone avevo preso 20 ci verrò vai tranquilla grotta no spai 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 non mi torna perché io sono qui e infatti io non dovevo essere qui credo non scaviamo dai che la pietra non fa mai male come ho detto prima poi ho fatto male con la pietra ma vabbè oh vamo preciso un altro passo in là è che davamo giù giù eh sì pensate che non ti vedessi eh barbone non so da quanto sto registrando eh ma d'ora in poi probabilmente registro finché gioca finché ho voglia di giocare diciamo poi dopo al massimo taglio i video che dite guardate laggiù i minerali ma no quanti c'è qua altro ferro ah tanto per farvi un accenno della mia tetfor patch allora mi sembra che fosse questa questa è la pietra quello lì è ferro vedete è molto cartonizzato questo qui cos'è un uomo questo qui vedete è pietro la ghiaia non come la ghiaia l'avevo fatta quella lì è la terra comunque tornando alla grafica di prima che forse è anche più bellina ok eccoci qui dopo dopo torno no ho finito il piccolo eh 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 non so se si può prendere si si può prendere però il ferro no quindi tornando in là prendo un disco un altro un po' di carbone e poi si va a casa appena arrivo su mi faccio un bel piccone di pietra e intanto metto a confere il ferro ah no guardate come si riempie qui la barra guardate guardate qui sotto dove si riempie la barra lì del potenziamento per i livelli in pratica guardate che quando rompo un pezzo no vabbè questo non si fa però tipo ecco guardate appena ne rompo un pezzo ecco visto bellissimo come scorre anche no mi sa quasi finito non riesco neanche a finire di prendere sto carbone vabbè tanto ci tornerò qua sotto mi farò anche mi farò anche delle scalette mi sa finito il piccone no beh ho un altro ma lo posso prendere ah no ho un altro ancora vai tutti ho infatti tutti precisi precisi neanche a farlo apposta ok da dove salgo mi faccio una bella scala cioè si è vero mi posso fare le scalette altro carbone lì mi posso fare delle scalette che poi collego a questo eh già che poi ne faccio altre anche la orca troia è venuto troppo in avanti ragazzi ce l'ho fatta yam da yam ok casa dolce casa house dolce house tu vai lì tu vai lì con questo ci faccio delle torciole piccone dovrei aspettare un po' secondo ok 8 torciole mi vado a prendere dopo quando è gioco mi vado a prendere del legno tu già forse forse qualche scaletta un po' già me le faccio no bellissime le scalette ne faccio 24 e noi le andiamo a posizionare però prima mi serve piccone per levare questo pezzo comunque le volevo mettere tipo qua qui qua no bellissimo mud così intanto vado a prendere un po' di legna un po' di legna io non mi ricordo come si fa una cosa che mi interessa questo qui ok direi che mi basta tanto mi serve solo per fare qualche stecchino dove sei? dove sei? qui me ne faccio 40 allora tu ok ma te ti metto da parte tu ok tu bella tu tu abbiamo da vendere qua però non ne metto beh ragazzi dai per questo episodio è tutto ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao ciao